Siamo qui con Massimiliano Mazzanti, giornalista, autore di libri, particolarmente esperto sulle questioni anche di carattere penale, quali la Uno Bianca e altri fenomeni di stragi e quant'altro, che ha seguito in modo particolare in questi tempi, in questi giorni, la vicenda di Ilaria Salis. Può dirci qualcosa Massimiliano? Noi siamo giornalisti di Torino Cronaco. Quello che non è sufficientemente chiaro al pubblico italiano è che Ilaria Salis non è stata arrestata per aver manifestato geneticamente contro qualcuno, ma è arrestata nell'ambito di un procedimento per tentato un seduto in concorso, un reato gravissimo anche nel nostro allenamento, e che ha visto un ragazzo praticamente essere ridotto in fin di vita e comunque permanentemente minimato a causa di un pestaggio che ricordo molto quello del famoso Sergio Ramelli, che tutti ricordano nel 1975 e che quindi... Il giovane Messino di 18 anni massacrato è morto dopo una lunga agonia. Una risoluzione di innocenza, qualora invece fosse ritenuta responsabile di questo reato, non si tratterebbe di una ragazza che ha fatto una manifestazione politica, ma di una criminale che ha compiuto un atto gravissimo e quindi forse il trattamento anche che subisce è proporzionato alla gravità delle accuse che sta affrontando. Quanto invece alle immagini che abbiamo potuto vedere quando l'hanno portata in tribunale, con lo schiavettone e via dicendo, questa è una prassi comune per gli altri paesi? È una prassi comune in tantissimi paesi anche occidentali, prima di tutto la più grande democrazia del mondo, quella americana, che tra l'altro è una prassi che non ha niente a coprire con gli schiavettoni di antica memoria italiana, è un modo di immobilizzare l'imputato perché non possa arrecare danni a se stesso e agli altri fin tanto che è sotto la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria del paese in cui è detenuto. Quindi non c'è niente di particolarmente torturante, è una misura che viene presa a tutela sia dell'imputato sia dell'amministrazione che ne ha la responsabilità legale. Ma ripeto, non è il trattamento che può in qualche modo giustificare o far passare in secondo piano la gravità dei reati di cui questa ragazza è accusata. Ripeto, se è innocente sarà liberata, ma se non fosse innocente come pare, tant'è vero che chi la difende non ne reclama tanto l'innocenza, non sarebbe, ripeto, una manifestante che ha ecceduto, ma una pericologia criminale che ha tentato la vita di un regato. Grazie. Lei risiede a Bologna. Sì. Bologna è diventata particolarmente il centro di attenzione in questi giorni perché è stato introdotto questo limite di velocità ai 30 all'ora che l'amministrazione comunale di Torino pensa di introdurre anche nella città subalpina. E' stato molto attenti perché come cantava Morandi e andava ai centro laura a trovare la bimba mia, andando ai 30 te la portano via. E quindi bisogna stare molto attenti perché tutta la popolazione bolognese, e in particolare quella attiva che si muove tutti i giorni, non solo per lavorare ma anche per colpare i bambini a scuola, per raggiungere i propri parenti, per fare tutto quello che un cittadino fa nell'arco della sua quotidianità, oggi deve impiegare due o tre ore in più in mezzo al traffico perché dobbiamo andare come se fossimo degli scarsi centometristi. Perché ricordo che un centometrista fa i 36 km all'ora, quindi noi adesso dobbiamo viaggiare meno di quello che ci permetterebbero due medie scarpe da tennis. Grazie.